L'importante è la bicicletta, in qualunque stagione dell'anno l'importante è in sicurezza, con massimo rispetto tra pedoni, ciclisti, automobilisti. Ognuno deve rispettare gli altri e tutti correre in strada in sicurezza. Il Comune di Campo San Martino punta sulla sicurezza stradale dei ciclisti e lo fa con una serie di iniziative e campagne di sensibilizzazione, sviluppando anche progetti per una rete ciclabile che faciliti la mobilità sulle due ruote. Per sviluppare tutta quella che è una rete ciclabile che vada a intersecare quelle che sono le ciclabili già esistenti nel territorio, ovvero abbiamo il percorso della Treviso-Stiglia e il percorso della ciclabile del Brenta, detta anche Venezia-Monaco. Iniziative che trovano l'appoggio del campione del mondo di ciclismo Cristian Salvato, originario di Campo San Martino, presidente dell'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani. Da anni che appunto con l'iniziativa del metro e mezzo che il Comune ha portato anche nel territorio comunale, che è di sensibilizzazione del rispetto del ciclista. Non è tanto il metro e mezzo del sorpasso, ma è per dare un segnale di rispettare l'utente più debole, che possono essere anche i piedoni. Grazie.